Con Tecneco al SAIE 2012 di Bologna per conoscere e scoprire quelle che sono le novità, i protagonisti, le storie del mondo dell'edilizia che sta cambiando e dove è meglio che capirlo all'interno del Formedil, dove nascono i nuovi operatori, i nuovi lavoratori del settore o dove si possono qualificare quelli che già ci sono portandoli verso le nuove competenze e le nuove conoscenze. Abbiamo qui con noi Claudio Cicarini, direttore della scuola edile di Reggio Emilia, del consorzio Formedil dell'Emilia Romagna e Maurizio Fanzini, referente nazionale della Borsa Lavoro edile nazionale, nonché anche lui direttore della scuola edile di Parma. Comincerei subito con Claudio Cicarini, proprio per cercare di capire la formazione, che domande si pone rispetto a un mercato che sta radicalmente cambiando? Le scuole edile operano su tutto il territorio nazionale, operano da molti anni, già da diversi decenni nella formazione del personale d'impresa, che è la nostra mission specifica. Il settore sta cambiando, stanno cambiando le tecnologie, stanno cambiando i materiali, sta cambiando anche l'esigenza di professionalità che ne consegue. Di conseguenza tutta la nostra parte formativa si sta rapidamente adeguando a quelle che sono l'inserimento delle nuove tecnologie, non tanto e non solo in funzione progettuale, ma in funzione anche applicata. Quindi la necessità di formare i nuovi lavoratori, di formare i nuovi tecnici e per quanto ci riguarda anche a volte sulla progettazione, alle caratteristiche tecniche dei nuovi materiali, alle problematiche dell'energetico, alle problematiche comunque in generale dei nuovi sistemi edilizi che si stanno evolvendo. La risposta di una borsa lavoro quindi rispetto a questo, quale deve essere oggi? Lo chiediamo appunto a Maurizio Fanzini. La risposta della borsa lavoro è quella di riuscire a ricollocare all'interno di imprese con percorsi anche formativi nuovi, quelle persone che vengono espulse dal settore perché chiudono le aziende, perché è calato effettivamente il lavoro. Oggi il settore per rilanciarsi ha bisogno di grosse professionalità e queste professionalità le possiamo ricostruire attraverso la formazione, prendendole o raccogliendole proprio attraverso il sistema della borsa lavoro. Io in questo caso mi parlo con il direttore della scuola edile di Reggio Emilia. Un po' tutta la fiera quest'anno è dedicata ai danni, all'emergenza del terremoto che significa ricostruire. Ecco, rispetto alla ricostruzione e rispetto poi al territorio dell'Emilia Romagna, come il form edile risponde? Come cerca di organizzare la nuova proposta formativa? L'evento del Sisma è ovviamente un evento che ci vede in primo piano proprio nella riqualificazione delle figure professionali che intervengono nel cantiere, ma che ci dà un ruolo anche rispetto alle conoscenze tecnologiche del mondo della progettazione. In questo caso, come scuola edile della Regione Emilia Romagna, ci siamo organizzati nella strutturazione di un piano formativo organico che tocca le varie figure professionali che intervengono e con una serie di altri attori che sono coinvolti, ordini e collegi professionali in particolare, ci consente di sviluppare sul territorio una formazione omogenea e integrata e che appunto possa portare una maggior professionalizzazione. Questo ai fini sicuramente nel momento attuale delle problematiche di intervento sull'emergenza. Nel prossimo futuro, nella ricostruzione, ma poi non dimentichiamo che c'è anche tutto il problema della riqualificazione del resto del patrimonio edilizio, che comunque è da adeguare dal punto di vista sismico e quindi sarà oggetto di intervento del prossimo futuro. Una riqualificazione che non passa solo sul livello strutturale e quindi sul recupero strutturale, ma sarà necessariamente anche integrata a tutte le altre tematiche che sono il recupero energetico, l'adeguamento energetico anche acustico e tecnologico in particolare. Su queste sono necessarie professionalità, professionalità vere, concrete, un'abilità che le scuole stanno cercando in qualche modo di ricostruire o perlomeno facilitarne la ricostruzione. Allora, non soltanto emergenza dal punto di vista del sismo o del sesto idrogeologico del paese, che pure potrebbe creare grande economia e grande lavoro, però c'è anche un'emergenza che il mercato edile è fermo e sì, borsa del lavoro, ma il lavoro c'è? Allora, il lavoro sicuramente è calato in questi ultimi anni, sicuramente a causa di tanti fattori. C'è un'esigenza che sta venendo fuori, molto importante da parte delle aziende, che stanno cercando di ristrutturarsi per tornare forse al passato, quando l'azienda aveva personale dipendente qualificato. Questo è un segnale molto positivo, quindi di aziende che cercano di ristrutturarsi e ricostruirsi per essere pronti per gli interventi del futuro. È chiaro che questo comporta sicuramente un grosso impegno da parte della formazione, un grosso impegno da parte dell'organizzazione aziendale, che però sicuramente porterà ad avere risultati positivi nel futuro. Io ringrazio Claudio Cigarini, ricordo direttore della Scuola Edile di Reggio Emilia, Consorzio Forme dell'Emilia Romagna, ringrazio Maurizio Fanzini, referente nazionale della Borsa Lavoro Edile nazionale. È un altro tassello importante quello che abbiamo raccontato ora, perché riguarda proprio la parte del lavoro e dei lavoratori che rappresentano e che mettono in opera quelle novità, quelle storie, quei materiali che abbiamo visto con Tecneco qui al SAIE 2012. Ringrazio i nostri ospiti e ringrazio chi da casa ha avuto la pazienza e il piacere di vedere le nostre trasmissioni. Grazie. Grazie.